Pamela Perricciolo è stata presente a live, non è la lusso di ieri in questa ultima puntata e a pensare che avrebbe parlato di tutti, secondo il mio parere nessuno escluso per quanto riguarda la questione di cui troppo si parla secondo la mia opinione a proposito di Pamela Prati e Mark Caltagirone, in particolare Pamela Perricciolo avrebbe rivolto una specifica accusa a Pamela Prati di cui però non entro nel merito perché non mi va di andare a spiattellare quelle che sarebbero state le parole di Pamela Perricciolo però ripeto che si sarebbe, diciamo così, utilizzata e quindi impiegata nel parlare proprio di Pamela Prati vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, vi ringrazio altresì per la relativa visione datemi il vostro parere, il vostro giudizio mi raccomando, ci tengo ad averlo, non entro, ripeto, nel merito della questione per Ricciolo Prati ma andatevela a vedere voi stessi attraverso la visione dell'ultima puntata di Live di Pondola d'Urso che è andata in onda qualche sera a pari di oggi a voi un cordiale salutone da l'anatore italiano Marias Leandro Grazie